Guardi, io ho sentito Guerini e Lupi e questo conferma la bontà della scelta che noi abbiamo fatto, quella di non partecipare a queste consultazioni che sono una farsa, sono una pantomimia. Guerini che dice siamo pronti ad andare al voto, ma al voto non ci vanno. Lupi dice abbiamo discusso di tutto e non di ministri. Settimana scorsa, non so se vi ricordate, il ministro Alfano in un noto salotto televisivo disse siamo pronti ad andare al voto anche a febbraio. Ieri ha dichiarato che questo sarà un governo di volenterosi che deve affrontare le emergenze. È evidente che la legge elettorale è l'alibi. La legge elettorale è l'alibi per fare un governo che tiri a campare e che arrivi al 2018. Allora noi dobbiamo spiegare ai cittadini, ai tanti cittadini che ci stanno ascoltando da casa, il motivo per cui il popolo vota, il popolo decide e si forma un quarto governo che non ha il timbro della sovranità popolare. Questo è un governo che non solo si forma senza la volontà popolare, ma si forma contro la volontà popolare. E solitamente il popolo punisce il palazzo. Questo è il governo del palazzo, è il governo delle logiche e degli intrighi di palazzo che nasce semplicemente per campare. Noi non vogliamo questo tipo di impostazioni. I problemi sono tanti e noi crediamo che i tanti problemi che ci lascia e ci ha lasciato in eredità un fallimentare governo, il governo Renzi, il governo tutto, Renzi e la sua squadra di governo, debbano essere affrontati dalle banche all'immigrazione al problema della povertà. Ragazzi ci sono 17 milioni di cittadini italiani che sono a rischio povertà. Ci sono 11 milioni di cittadini italiani che non hanno la possibilità di poter avere le cure sanitarie. Questi problemi gravi devono essere affrontati con un governo nella pienezza dei propri poteri, ma col timbro della legittimità popolare. Scelto e voluto dal popolo.